bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi un sacco di novità per quello che riguarda il futuro di fortnite e questa settimana che ha da oggi adesso le 23 e 34 del 20 luglio non ha ancora visto l'annuncio ufficiale della patch 13.30 mi auguro veramente che non ci vogliano fare scherzi se oggi non dovesse arrivare ci auguriamo arrivi domani o al massimo giovedì quindi incrociamo le dita parleremo comunque della galaxy cup finalmente con delle notizie ufficiali vedremo anche dei problemi in game e tanto tanto altro prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente al primo argomento di oggi e non poteva che essere la galaxy cup un paio di giorni fa è stata spoilerata per errore sulla galaxy store sul galaxy store di samsung l'immagine adesso finalmente anche nella sezione delle notizie di fortnite nel sito epic games abbiamo info ufficiali la prima dice coppa galaxy fortnite per i giocatori android il 25 il 26 luglio entra in un torneo di fortnite insieme ai giocatori su galaxy per poter vincere un costume e una copertura inediti prima di chiunque altro quindi ragazzi attenzione e adesso vi dico perché ho messo nel titolo che tutti la potremmo ottenere come partecipare alla coppa le competizioni della coppa galaxy sono aperte a tutti i giocatori idonei che giocano su android con dispositivi supportati quindi tutti i dispositivi android dove vi gira fortnite possono essere usati per giocare inoltre i giocatori dovranno assicurarsi di attivare l'autenticazione a due fattori sui loro account epic per maggiori dettagli consulta il regolamento ufficiale durante la coppa galaxy i giocatori più vincenti di ciascuna giornata potranno ottenere il costume esploratrice galaxy tutti i giocatori che partecipano a un minimo di cinque partite riceveranno la copertura galassia i vincitori giornalieri ciscuna regione saranno determinati come segue in europa per quello che interessa a noi i migliori 10.000 ma attenzione perché c'è una nota molto interessante nota il costume esploratrice galaxy e relativi accessori saranno disponibili nel negozio oggetti più avanti quindi chi non gioca su mobile a fortnite non deve preoccuparsi perché spendendo con i vbacs potremmo anche noi ottenere tutto il set dell'esploratrice galaxy scarica un gesto forte sul tuo dispositivo android inizia ad allenarti se è un dispositivo samsung puoi scaricare forte tal galaxy store consulta la sezione android nelle fac di fortnite per informazioni aggiuntive su download e compatibilità con i dispositivi quindi ragazzi tanta tanta roba adesso dovrebbero essere disponibili le iscrizioni un bel in bocca al lupo a tutti voi che possiate vincere abbiamo una bellissima immagine che non è ufficiale è un concept che però secondo me richiama proprio con una grande precisione quella che potrebbe essere la copertura che viene data a tutti i giocatori per aver partecipato almeno a cinque match nella galaxy cup abbiamo in realtà la stessa copertura portata su un paio di armi e più o meno dovrebbero uscire così devo dire che sono molto carine io credo che sia animata quindi dovrebbe avere un effetto di galassia insomma che gira su tutto il corpo dell'arma tanta tanta roba per questa nuova galaxy cup e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è passato esattamente un anno da quello che è stato a parer mio uno degli eventi più belli di fortnite e sto parlando ovviamente della della grande lotta tra il cactus contro il dogus quindi il mostro contro il robot che ha segnato in poche parole la fine di una grandissima era di fortnite quello del primo capitolo che ha diciamo preso un posto speciale nel cuore di tutti una piccola menzione volevo dargliela per chi l'ha vissuta si ricorderà certamente di cosa stiamo parlando per chi non l'ha vissuta invito ad andare a vedere quel piccolo spezzone durerà 7-8 minuti dove veramente è successo l'inimmaginabile dall'inizio alla fine quindi grazie Epic Games per questi eventi che sono veramente meravigliosi e andiamo avanti a parlare di un altro argomento forse non sapete ragazzi che Fortnite o meglio Epic Games ha una parte delle proprie azioni in Giappone in Cina insomma in quei posti là ragazzi dove è sotto il controllo di Tencent Tencent è un'industria videoludica che c'è dagli albori sono veramente 30-35 anni che rimane sempre in vetta alle classifiche e lavora sì a stretto contatto con Epic Games nelle sedi europee e americane ma in realtà fa un po' quello che vuole e tra queste cose oltre ad aver annunciato più volte degli spoiler che poteva tranquillamente evitarsi ha invece proposto 4 wallpaper per cellulari purtroppo in Europa non sono ancora disponibili cercherò di trovare le immagini ufficiali magari ve le linco e come vedete la prima riprendeva la pili quindi la banana la seconda riprende miascolo per passare poi a pesce secco e per chiudere con questo dovrebbe essere fluffy se non ricordo male quindi una piccola cosa divertente magari fateci uno screen se riuscite con il computer e ve li piazzate come sfondo del vostro cellulare e andiamo avanti perché vi ricordo che invece nella patch che ancora abbiamo in questo momento in corso su Fortnite ci sono dei pack criptati alcune cose devono ancora uscire questo potrebbe essere il motivo del perché alle 23.40 del 20 luglio ancora non abbiamo informazioni sulla 13.30 abbiamo due pack criptati che sono praticamente le anteprime della minimappa quello che vedete il primo e il terzo 2,67 mega le anteprime della minimappa nei vari giorni in cui scenderà nuovamente il livello dell'acqua adesso dovrebbe essere il 24 luglio e poi credo che passiamo direttamente ad agosto abbiamo il pochi pack skins ragazzi da 96,67 mega abbiamo 200 mega di pack criptato che è tutto il regno di Atlantide insomma dove c'è tutta la location di Aquaman e al 68,11 mega abbiamo ancora l'outfit di Madcap vi ricordate ragazzi la skin del fungo con tanto di piccone, zaino che ha anche la variante luminosa quindi abbiamo ancora della roba da vedere oltre che almeno altre 5 skin che sono già decriptate perché le conosciamo ma ancora non sono state rese pubbliche quindi un po' di lavoro indietro ce l'hanno, un po' di roba da mandar fuori ce l'hanno staremo a vedere un po' che cosa succederà e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è uscita ieri l'ultima modalità a rotazione delle LTM che vi avevo già presentato oramai due settimane fa stiamo parlando della modalità blitz in singolo ragazzi se non ricordo male si utilizzano solo armi esplosive, solo RPG ora non ricordo correttamente ma dall'immagine mi sembra di si switcherà se non ricordo male fra un paio di giorni in duo e sarà appunto quella che chiuderà la rotazione di tutte le LTM devo dire che la più bella è stata quella fuori magazzino mi ha emozionato giocare con le armi vecchie nella mappa nuova e quindi tanta tanta roba stiamo a vedere se adesso arriverà una nuova rotazione di LTM che magari si siano anche un po' diverse e arriviamo all'ultimo argomento di oggi ragazzi perché forse non lo sapete ma hanno scoperto una cosa incredibile che causa freeze del gioco e addirittura chiusura del gioco stesso mentre si sta magari fightando o semplicemente si è ucciso un avversario per chi non lo sapesse nei server europei e credo anche negli altri server tranne quelli della Cina comunque delle loro parti chiunque utilizzi, chiunque killi un giocatore che sta utilizzando dei caratteri giapponesi rischia il freeze del gioco o addirittura la chiusura del gioco stesso qua mi viene in mente che può succedere questa cosa ma è successa una volta una chiusura immediata ed effettivamente ripensandoci mi sembra che il tizio che avevo killato aveva un nome con dei caratteri un pochettino strani quindi ragazzi fixeranno sicuramente e immediatamente mi auguro questa cosa se per caso vi si chiude il gioco senza motivo o vi si freezza tranquilli non è la scheda video potrebbe non essere il vostro computer ma semplicemente un problema di conflitto tra i caratteri e il server insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su Twitch ciao 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 Grazie a tutti.